ehi la ciurma rieccoci su shop equip intanto che giorno siamo? non lo so siamo in autunno però avevamo sbloccato i druidi non ho avuto la possibilità di giocare mentre voi c'era anche questo in passato? boh non lo so mentre voi non c'eravate quindi allora vediamo se abbiamo bisogno di piantare qualche cosina direi di sì direi di sì allora vabbè innanzitutto cosa ordiniamo? allora le pozioni due pozioni uno shield due gloves un chest ma non abbiamo fatto l'ordine strano però può darsi fire resist wild growth prendiamo un'altra wild growth perché stanno andando abbastanza oh dei mushroom, dei weed ah no ce li avevo li ho qua dentro probabilmente yes no allora andiamo a piantare un po' di robetta un po' di belle cosine no forse non ha salvato tutto il progress che abbiamo fatto dopo aver chiuso il negozio ecco perché infatti abbiamo anche più di 4.000 soldi e no ah sì c'è il save shop ma forse mi sono dimenticato di cliccare ahia e dovrò andare a ricomprare anche il il tavolo il tavolo ah bastava tenere per muto ottimo così e allora posizioniamo dell'erbetta 1 2 3 4 fortuna che tiene in memoria il il prezzo passato che abbiamo tutto andiamo a comprare di nuovo il tavolo allora così noi dovremmo avere 3 yes ah dobbiamo anche ricevere i soldi paparapapapapapapa eh niente spazzatura non ce ne facciamo che aprire tutto e poi andiamo a no non ho aperto un kaiser giorno 16 e andare a posizionare ma ah no abbiamo fatto lo stupido che sono mi sono distratto per le non chiudermi in faccia la porta mi sono distratto per le piante e non abbiamo preso l'ordine speriamo che non arrivino tutti adesso ok allora 1 e 1 2 oh non so neanche se sono riparati gli affari i piedistalli i tavolini gli espositori insomma allora wild growth ok eh no infatti dovevo riparare di nuovo tutto devo assolutamente ricordarmi questo discorso perché vuol dire che ho fatto due volte le stesse cose perché pensando al salvataggio automatico non mi sono occupato di sistemare no stai scappando ok non era innocente si è girato in tempo altrimenti scappava con una stone qua comunque abbiamo completato la quest quindi no era con q forse che ci dà i punti per la quest no ce li ha dati i punti cosa facciamo allora facciamo quello 5 5 si dà buona stiamo vendendo bene porca mannaggia abbiamo venduto 7 pozioni un niente sta sparendo la roba in pratica cioè avrò bisogno di altri espositori qua a breve per mettere la roba anche gli scudi non guarda le pozioni come stanno andando ne è rimasta una cioè è incredibile è arrivato st'ordine oh porca miseria che se il sesso senza pozioni è un guaio al pelo allora lo scudo piazza lo scudo no prima piazziamo un altro ordine perché 5 1 2 1 1 è ok ma anche i guanti al pelo un altro recolstone oddio santissimo e quello sta scappando va che ti ho visto eh no ridammi lo scudo mannaggia ci sarà una scopa più potente di questa mannaggia è tutto sporco per terra adesso puliamo un attimo dovremmo sbloccare i tappeti mi sa eh dai piazza 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 ok la spada 2 ne abbiamo vendute già di spade porca miseria ma dobbiamo fare un altro ordine vediamo solo cosa compra una health potion c6 7 eeeh 2 vai ma l'aggia va a finire che abbiamo quasi incompletato anche la quest eh no beh 2 1 ma comunque in un niente già avere 2 1 non è male come discorso eeeh curiosità quanti punti skill abbiamo 64 hanno più tolleranza rispetto ai prezzi ma non mi interessa quella roba là vorrei sbloccare le altre categorie più che altro eh mmm bello sconto che immaginavo mi danno uno sconto quando faccio gli ordini che effettivamente non sarebbe male ma voglio prima avere più categorie così magari più quest possibile più punti ma forse cambia musica anche quando cambia il momento del giorno scusate ho dato una botta enorme al microfono spero che non siate morti nel mentre l'ordine ah l'ordine era arrivato si vediamo subito se ho da prendere altra roba una si vai inizia a diventare molto movimentato dovrò poi assumere dei bot aiutanti perché si lo so che posso aumentare o diminuire il prezzo ma non voglio fare il ladro del mondo ok pronto l'ordine c'è un altro ordine già con quello che manca manca qualcosa si due stivali e una spada vai così meno non perdiamo tempo in chiacchiere o altre cose allora wild growth la mettiamo là ok quella va a prendere l'ultimo paio di stivali vuoi vedere? si tutto tutto che li avevamo appena ordinati perché sono qua vai vai allora ordina altri due stivali uglous e spada è un'altra wild growth creepy abbiamo già fatto più di mille cucuzzoni qua stamattina dai ordine lo so che stai arrivando lo so eccolo allora vai con gli stivali u ho preso un'armatura quella è già una mia vecchia cliente perché aveva già la spada devo ordinare di nuovo tutto in pratica uno due un due cosa ho preso? leather boots ancora vai parti con l'ordine e poi dopo ne faremo un altro di ordine va molto ondato hanno finito gli stivali e hanno quasi finito i guanti mi sa che ne ordino altri dovrei ordinare altri due due almeno ah c'è un order in progress facciamo che farlo subito partire l'altro così che intanto che ritiriamo questo l'altro è già a buon punto non davvero perché se finiscono così in fretta abbiamo bisogno di un margine per poterli ricomprare tra uno acquisto e l'altro allora uno 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 vai ah beh i funghi non sono andati molto bene però il resto è andato abbastanza ah si abbiamo detto che ne mettiamo di più ok adesso iniziano a diventare un po' scomodi che siano attaccati alla parete dovrei forse pensare di metterli al centro ma io voglio metterli là ah non ho capito cosa ho comprato ma aggiorniamo uno 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 facciamo che starà sei quindi come numero di quelli là di guanti e stivali scusate pulisco un po' per terra che qua tu hai comprato una spada uno dei semi della semenza vai mettilo via uh l'ordine eh ma dobbiamo fare un'altra perché sta arrivando un sacco di altra gente eh uno un due tre ma naggia già tre stivali sono andati e uno promesse no e ovviamente vendiamo la spada proprio mentre abbiamo piezzato l'ordine vabbè intanto ne abbiamo abbastanza per resistere fino all'ordine successivo ma già gli stivali sono andati via come il pane oggi vorrebbero vorrebbero della roba avanzata ma se va bene possiamo comprargliela adesso dovremmo anche salire di di livello forse no non so se abbiamo completato la quest mancano degli scudi mi sa le spade dovrebbero essere andate perché ne abbiamo comprate così tante di spade oggi che la parte delle spade dovremmo esserci quello che non so se è a posto sono gli scudi abbiamo finito di nuovo le wild growth ho scudo spada ho comprato uno scudo ho forse ci stiamo anche con gli scudi no manca uno scudo hai comprato uno scudo please no dai uno scudo uno scudo scudino scudabile siamo a 68k ma non sono sufficienti ancora per sbloccare quella roba là dai prima che chiudiamo qualcuno compri l'ultimo scudo per favore lei sta andando dalla parte sbagliata però aspetto prima di piazzare l'ordine perché compri quella compri una pozione si health potion quella ha preso uno zucchino 8 copre lo scudo o i guanti i guanti lui copre lo scudo ha bisogno di uno scudo lo vedo e ora che va bene lo solo scudo gli stivali già ce l'ha yes allora uno 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 e vai con l'ordine avevamo un altro ordine no ok riesco di aver fatto la cavolata della vita ah scegliamo un'altra quest già che ci siamo così almeno la iniziamo questa dai 5 pozioni ma stiamo chiudendo o ha rubato no mi sa che stiamo chiudendo continuo a premere escar posto che è F no forse aveva rubato sul serio lol e si perchè se no non dice evening dice che chiudendo perchè ho una spada in più perchè sono stupido e scudo vai di scudo adesso dovremmo avere anche abbastanza punti per poter sbloccare sbloccare allora i mage o i rog forse i mage comprano anche quella roba la ehi ehi dove credi di andare oh ah adesso adesso possiamo adesso possiamo coordinare le mana potion facciamo un mobiletto ne prendiamo iniziamo a prenderne tre e vediamo poi quanto vendono tre guanti da wizard da wizard una ladder chest un coso così uh le basic wand prendiamo due basic wand ok ordiniamo tutta sta roba qua vediamo poi dopo dove riusciamo a metterla più che altro ah e i semi non ho guardato cosa ci serviva come semenza mh allora fare per le pozioni vabbè intanto mettiamola a 120 ok poi la spada ok la recolstone ok la spada viene tu sì ok la wand dove va qua ok va bene allora facciamo che ah ma no occupano troppo spazio cosa no occupano troppo spazio allora e poi vabbè devo aumentare il prezzo l'header chest la mettiamo qui i wizard gloves li mettiamo qua dove ci sono gli altri guanti dai là in fondo tanto non dovrebbero occupare troppo spazio no ok abbiamo aumentato il prezzo sì lo scudo lo ho messo qua ok ci restano solo queste cose qua allora comprerei un altro armadietto così tipo sì lo metto qua accanto alla roba del druido allora ah ok questo sì giralo così poi vorrei un altro tavolo grande però i tavoli magari li metterei qua così sono più comodi da accedervi ehm 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 Forse sì Mettiamolo un po' più indietro Ma mettiamone uno di sbieco qua Perché non ci sta? Perché c'è l'apertura là Perché c'è la finestra No Boh per ora facciamo così Poi vediamo un po' Allora adesso devo ripiazzare tutto però Ma anche i cosigni delle spade Li metterei in un modo diverso Effettivamente Vabbè allora Scudi Ah ok così sono tipo speculare Allora poi facciamo i guanti No Sono sei guanti Sei guanti normali E tre guanti Da Da mago Da mago Allora le bacchette qua No Eh ma solo due bacchette avevamo È messa di sì Allora stivaletti E altri stivaletti Ok c'è sta spada Sembra che mi rompe l'anima E allora facciamo che fare qua Tutto il posto No vabbè le pozioni abbiamo comprato Il coso ormai Adesso utilizziamolo no Due tre Ah qua ci sta una spada Ok I guanti li abbiamo messi là Mi mancano due guanti però A sto punto allora O sono caduti per terra E non li ho raccolti No Eh no Eh no Tre bit E tre Wid Vai allora intanto Piazziamo i guanti E poi andiamo a Piantare le sementi La semenza Ma a parte che direi Che questo possiamo anche Eh posso anche farlo FK E noi ci vediamo Nel prossimo episodio Di ShopEkeep Vi invito a lasciare un mi piace Iscrivervi se per caso Non è stato già fatto E lasciare un commento Qua sotto Ciao e al prossimo video